Il caso delle multe In ZTL pronti i ricorsi L'assessore saranno annullate Solo quelle di chi aveva già i pass Teramo Ambiente La maggioranza approva il PEF Ma Campana accusa Sperperiamo denaro per hotel e stipendi Comune di Teramo Sì del consiglio Al nuovo piano di restituzione dei mutui Saranno dilazionati fino al 2044 Vittoria Radicale Il garante dei detenuti si farà Domani il bando sarà riaperto Debito milionario Il comune perde in appello Deve pagare 1,4 milioni Per l'esproprio del 68 di Piazza Sant'Anna Ambiente La festa di Lanciano Un monito al governo No ombrina Salviamo l'Adriatico dalle tribelle Sport Teramo Supercoppa addio Ma intanto è giallo sul futuro di Vivarini Eletto allenatore dell'anno Serie D Si spegne a Fano Il sogno del San Nicolò Ma la stagione è stata splendida Buonasera e benvenuti Al telegiornale di Teleponte Il consiglio comunale di Teramo Ha approvato il PEF Il piano economico e finanziario Della Teramo Ambiente Con 19 voti favorevoli E 10 contrari La maggioranza ha votato compatta Ma il consigliere della lista civica Campana è stato molto critico Soprattutto sui compensi Dei dirigenti TEAM Sentiamolo Lei ha contestato soprattutto I compensi dei dirigenti E ha detto Prima di tagliare il personale In esubero Bisogna tagliare i compensi Dei dirigenti Sì chiaramente Nella lista civica Ormai è una battaglia Che facciamo per la TEAM E per il PEF Specialmente Perché abbiamo detto Che prima di toccare i esuberi Veramente bisogna vedere Le posizioni apicali Abbiamo dato anche gli esempi Perché no Perché ci sono persone appunto Che vengono a Teramo Vengono a domini in hotel Vanno appunto A riscaldi lussuosi Usano macchina Carte di credito Io dico che è impossibile Una situazione del genere Più che altro Anche per la questione morale E umana Ma e perché allora Votato a favore del PEF? Come non abbiamo votato a favore Appunto per senso di responsabilità È una maggioranza Perché diciamo che Il PEF rispetto agli altri anni È un PEF migliorato Dove veramente Un PEF dove c'è minor Per quanto riguarda la tariffa Minora Una riduzione minima C'è un abbassamento Appunto del PEF Di un milione Cerca circa un milione e mezzo Ma non tanto quello Perché vediamo Che ci sono delle riduzioni Iniziamo a vedere delle cose Tipo delle carburane Tipo officine Tipo altre consulenze Insomma voi non contestate Le cifre di questo PEF Ma guardate di più A quello che avete definito L'aspetto umano Che in questo caso Secondo voi Sarebbe stato trascurato Sì io credo che in questi mesi Prima di vedere Chi tagliare Chi eliminare Si dovrà veramente Vedere dove poter ridurre Perché no Ridurre i stipendi I dirigenti Anche se l'hanno fatto So che hanno fatto Alcuni dirigenti Una percentuale di riduzione Si può fare di più Possono farlo altre persone Quindi prima tagliare lì Vedificare le spese superflue I benefit Perché ne sono tanti E poi appunto Vedere gli esuberi Perché credo che la popola gente Non vada appunto Neanche strumentalizzata Non va neanche appunto Ecco va tenuto conto Di questa popola gente Quindi è chiaro Che si vada prima A fare una riduzione Delle posizioni apicali Alla luce di questo Suo intervento critico Cosa si aspetta adesso Soprattutto dal sindaco Noi abbiamo crescido al sindaco Di essere galante Non per i consiglieri Di maggioranza Che anche noi appunto Insieme alla minoranza Dobbiamo governare la città Ma più che altro Per quelle persone appunto Che sono in esubero Galante ai confronti loro Che prima di toccare loro Venga veramente ridotto Alcune spese Il sindaco ha fatto qualche promessa Beh il sindaco mi ha dato appunto Ragione su tanti aspetti Ha promesso che lui Sarà veramente il galante Di queste persone E sono sicuro che lo farà Numerosi commercianti Del centro storico Si sono rivolti All'associazione dei consumatori Robin Hood Per avere un aiuto Nella richiesta Di annullamento Delle multe Nella ZTL Sentiamo Numerosi commercianti Del centro storico Terramano Si sono rivolti All'associazione Robin Hood Per chiedere L'annullamento Delle multe Ottenute Passando Attraverso I nuovi varchi elettronici A questo punto Che cosa bisognerà fare? Si insieme anche Degli invalidi E altre persone In buona sostanza I negozianti Sostengono questo Che in pratica C'era stata una dichiarazione A parte dell'assessore Competente a Ramo Che fino al 20 Per coloro che avevano Già il permesso Stava arrivando quello nuovo Potevano entrare nei varchi Senza problemi Fino al 20 di marzo Questa cosa Diciamo Nella sua interesse Questo problema Che ha coinvolto Tantissime persone Pare siano 3.000 Le sanzioni Che sono state errogate Da parte dell'amministrazione A questi soggetti Lasciano pensare Che effettivamente Qualcosa del genere Ci sia stato Perché una Una tale Massa Di violatori Di una norma Nel giro di pochissimi giorni È veramente una cosa Che Diciamo Che porta a pensare altro Quindi qualcosa Non è andato Non è andato bene Non sarà andata bene Nella comunicazione Per quanto riguarda L'apertura dei varchi Non sarà andata bene Nella comunicazione Forse l'assessore Qualche problema c'è Diciamo La massa di persone Critica È veramente tanta E adesso come agirete No niente Noi stiamo cercando Intanto di recuperare Attraverso i mass media Questa dichiarazione Se c'è stata E soprattutto Diciamo L'amministrazione Che dovrebbe Prendere qualche Posizione In merito A questa Gestione Questa apertura Dei varchi Che evidentemente Non è stata Così felice E l'assessore Di Giovan Giacomo Ribatte Agli automobilisti Multati E dice Mai detto Che nei primi 20 giorni Di marzo Non sarebbero state Combinate multe Verranno annullate Solo le multe Di coloro Che avevano Le vecchie autorizzazioni Sentiamolo I commercianti Del centro storico Di Taramo Si sono rivolti Anche all'associazione Robin Hood Lamentando Appunto Le multe Ricevute Nell'arco di tempo Dei 20 giorni Nel corso Dei quali Lei avrebbe detto Non si sarebbe Proceduti Alle multe Per chi passava Nei nuovi Varchi elettronici Qual è la situazione? Assolutamente Io ho mai detto Una cosa del genere Ci sono stati Nei primi 20 giorni Alcuni problematiche Riferite alla neve E la prima giornata Dove alcuni varchi Non hanno sanzionato Avevamo detto Che vedevamo Un attimino Se le sanzioni Erano possibili annullarle Ma siccome Le sanzioni Non erano state messe Perché i varchi Non funzionavano Dunque Non è stato messo Nessun verbale Nei giorni In cui non c'è stata luce Perché logicamente Non poteva Il varco sanzionare Privo di corrente elettrica E quando non funzionava Non ha sanzionato Dunque Non abbiamo tolto niente Perché non c'era nulla Da togliere Perché le sanzioni Non erano state erogate Dunque Il discorso è questo E dunque Gli altri giorni In cui i varchi funzionavano I commercianti Ma anche Purtroppo Anche tutte le altre categorie Non hanno rispettato Il regolamento È solo questa La questione Non c'è Altra questione Quindi a questo punto Le multe verranno annullate o meno? Sono state annullate Le multe Di tutti coloro Che avevano la vecchia autorizzazione Perché abbiamo fatto In autotutela Abbiamo inserito Tutte le targhe Anche di coloro Che non hanno fatto La richiesta di autorizzazione Con il nuovo regolamento Abbiamo inserito 1100 targhe Dal 2006 ad oggi Tutti coloro Che avevano l'autorizzazione Per entrare in ZTL E da quelle è scaturita Una riduzione di multe Di 3000 Di 3000 multe Però diciamo Tutti coloro Che sono stati sanzionati O perché non erano privi Di vecchia e nuova autorizzazione O sono entrati In orari diversi Da quelle che erano Le proprie categorie Di appartenenza Quindi queste multe Non verranno annullate Anche nell'ambito Dei famosi 20 giorni Che partivano Dal 1 marzo Al 20 marzo Periodo in cui Lei avrebbe detto Ma nega appunto questo Che ci sarebbe stata Un po' di elasticità No Siccome se le multe Erano state Il sistema non aveva funzionato Non aveva funzionato male Avevano tratto di inganno La cittadinanza È giusto che le multe Venivano annullate Però non c'è stato Non hanno sanzionato Dunque in quei giorni In cui i varchi Non hanno funzionato Non hanno sanzionato Dunque automaticamente Non sono state erogate Le sanzioni Dunque per quello Io non sapevo Come funziona la questione Poi la ditta Che ci ha fornita L'impianto Ha detto che In quel periodo Non hanno sanzionato Dunque coloro Che hanno preso la sanzione Era solo nei periodi Di funzionamento Della cosa Poi si sta dicendo anche Che nei primi 20 giorni Era sperimentazione Ma nessuno ha detto Che nei primi 20 giorni Era sperimentazione Sperimentazione C'è stata dal mese Di ottobre 2014 Sarà pronto a giorni Il bando per l'affidamento Della piscina scoperta comunale Che alla fine di giugno Dovrebbe riaprire i battenti Come ogni anno Gli uffici dell'assessorato Allo sport Stanno predisponendo la gara Per affidare il servizio Per un periodo di tre mesi Secondo precise disposizioni Dell'assessore Francesca Lucantoni Sul fronte della piscina coperta Invece L'ipotesi è di formare Un'unità di progetto Composta da tecnici comunali Che studino approfonditamente Tutti gli aspetti Del bando di affidamento Della gestione Che è scaduta Ed è tuttora In proroga Il comune di Teramo Perde in secondo grado La causa Per il risarcimento Dei fratelli Merlini Per l'esproprio Di piazza Sant'Anna Non perfezionato Nel lontano 1968 Dagli allora 75 milioni di lire Si è passati Al milione 460 mila euro Deciso dai giudici Della corte d'appello Per il comune La speranza Adesso E nella Cassazione I dettagli Nel servizio Ricorre per la seconda volta In Cassazione Il comune di Teramo Sperando di vedere Annullata La decisione Con cui la corte d'appello L'ha condannata Al pagamento Di un maxi indennizzo Ai due cittadini Per l'esproprio Dell'area di piazza Sant'Anna Da destinare a parcheggio Non perfezionato Nel lontano 1968 Oggi L'amministrazione comunale Deve ai fratelli Francesco E Camilla Merlini 1 milione 460 mila euro In realtà Avrebbe potuto Sborsare Solo la metà Di questa cifra Se avesse accolto La proposta Di transazione Avanzata Dai creditori Della somma Ma l'avvocatura Ha voluto percorrere La strada Del contenzioso Giudiziario Sull'esito positivo Del quale Si era dichiarato Fiducioso Anche l'assessore Mirella Marchese I due fratelli Avevano chiesto Ai giudici Il risarcimento Per l'occupazione Dell'area Avvenuta senza Una regolare procedura Di esproprio Il comune Pur avendo di fatto Trasformato l'area In un parcheggio Nel 1968 Perfezionò formalmente La procedura Solo vent'anni dopo Con una delibera Di giunta Con la quale Si approvò Il programma Esecutivo del parcheggio Il programma Di recupero Del patrimonio edilizio E l'acquisto Delle aree Di proprietà Della famiglia Ma questa delibera Non seguì Un decreto Di esproprio Né una trattativa Per l'acquisto Della proprietà Da qui il contenzioso Con il comune Avviato nel 91 Annulla E valsa L'eccezione Del diritto Di usucapione Da parte del comune La prima sentenza Del tribunale Di teramo Diede ragione Al comune stesso Il giudizio In appello Ha ribaltato L'esito Ritenendo Inammissibile Le ragioni Del comune Che ha proposto Ricorso In Cassazione Che ha rinviato Ad altro giudizio In appello La vicenda E la decisione Di questi giorni Il comune Deve risarcire I fratelli Merlini Con un milione Quattrocentosessantamila euro Allora Il costo Dell'esproprio Sarebbe stato Di 75 milioni Di lire L'assessore All'ambiente Del comune Di teramo Rudy Di Stefano Traccia il bilancio Degli interventi Nei plessi Scolastici E nei parchi Gioco Sentiamo In circa 15 giorni L'assessorato All'ambiente Tramite ditte Private Ha proceduto Alla riqualificazione Alla pulizia Di diverse zone Della città Partendo Dalle numerosissime Oltre 100 Segnalazioni Da parte Dei cittadini Ed enti A questo punto La situazione qual è? Sì 133 Per la precisione Erano state le segnalazioni Che erano arrivate Al nostro ufficio Urp Che chiaramente Loro direttamente In giornata Poi girano Ai vari responsabili Verde pubblico Che fino al 30 aprile Era la teramo ambiente Poi dal primo maggio Diciamo Il servizio È tornato in capo Al comune di teramo Noi in meno di 15 giorni Comunque abbiamo dato La massima priorità A quelle aree Dove ci stanno I più piccoli Quindi soprattutto Alle scuole E ai parchi giochi Il bilancio Dopo 15 giorni È più che soddisfacente Ecco Ho avuto modo di coordinare E di stare sul posto personalmente Quindi mi sono reso conto Delle enorme mole di lavoro Che c'è stata Li ringrazio Perché sono andati Piuttosto veloci Ma senza intaccare la qualità Comunque per ogni sito Ci si è dedicato bene Per bene Per la cura E per rendere il più Usufruibile possibile Quindi posso annunciare Finalmente che scuole E parchi giochi L'abbiamo sistemati Nella giornata odierna Scanzo di equivoci Ho mandato comunque Dei taxi a girarli tutti Per verificare Se qualcosa Può essere sfuggito Perché quando si lavora In questo modo Ci può sempre stare Però per il momento Non mi risulta E nei prossimi giorni Invece inizieremo A fare tutte quelle altre aree Non meno importanti Però sicuramente Che non avevano la priorità Visto insomma Che non ci sono Non ci sono bambini Che ci devono giocare In seguito a tutto questo lavoro Compiuto dal Comune E non dalla TAM Come il Comune Si comporterà Nei confronti Della municipalizzata Niente Come già annunciato Contesteremo chiaramente Quelli che sono stati I lavori non svolti Quindi noi abbiamo fatto Già un elenco Chiaramente con delle foto Che poi confrontate Con le segnalazioni Che stanno all'URP Ripeto Chiaramente poi toccherà I tecnici Sedersi a tavolino E stabilire Qual è la somma Che dovrà essere detratta Perché il rispettivo Da corrispondere a TAM Nei primi 4 mesi dell'anno Era stato stabilito In 200 mila euro Chiaramente non sono stati Fatti interventi Per 200 mila euro Adesso si tratta Soltanto di quantificarlo E verranno detratti Pagheremo solo quello Che è stato effettivamente tagliato Il Consiglio Comunale di Teramo Ha approvato La nuova programmazione Della restituzione Dei mutui La dilazione È stata estesa Fino al 2044 Ed è stata approvata La rinegoziazione L'opposizione non è d'accordo E Pomante ha affermato Il Comune dovrebbe chiedere Il predissesto Sentiamo Nel corso dell'oderno Consiglio Comunale È stata approvata La rinegoziazione Dei mutui Questo cosa significa? La rinegoziazione Dei mutui Significa che In pratica Il periodo di restituzione Della rata Del mutuo Si allunga Da un periodo X A un periodo Y Nel caso specifico Siamo arrivati All'apposticipo Della restituzione Di questi mutui Al 2044 Questo significa Che ovviamente Avremo Delle rate più basse Da pagare Ogni semestre Ogni trimestre A seconda Di quello che è Il periodo di ammortamento Di periodo di pagamento Di queste rate È ovvio Che questo comporta Degli interessi In più da pagare Ma tutti sanno Che quando si rinegoziano I mutui È perché ovviamente La rata diventa più bassa Quindi questo consente Di risparmiare Delle risorse Che in questo momento Sicuramente è una cosa Assolutamente importante Condo il consigliere Pomante Il Comune Non dovrebbe chiedere La rinegoziazione Dei mutui Bensì il predissesto Sì infatti La rinegoziazione Dei mutui Consente solo Di spalmare Sul futuro Delle nuove generazioni Quello che è Il debito attuale Fatto dagli attuali Amministratori E da quelli che li hanno preceduti Con il predissesto Invece avremmo la possibilità Di avere 15 milioni di euro Circa dallo Stato Che potrebbero essere utilizzati Per incentivi E per investimenti E soprattutto avremmo Il controllo della Corte dei Conti Sui movimenti di bilancio Che impedirebbero Una gestione politica E clientelare E consentirebbero invece Di fare un'attività Di tipo amministrativo Nell'interesse della città E per quale ragione Secondo lei Il Comune Non procede In questa direzione? Perché evidentemente Hanno intenzione Hanno interesse A fare una gestione politica È ovvio Stare sotto il controllo Della Corte dei Conti Significa non poter più Gestire la città In maniera In maniera politica Ma operare scelte Oculate dal punto di vista Amministrativo Esclusivamente scelte Oculate dal punto di vista Amministrativo Il garante dei detenuti Sarà nominato Lo ha assicurato Lo ha assicurato oggi Il Presidente del Consiglio Regionale d'Abruzzo Giuseppe Di Pangrazio Intervenendo a Teramo Alla conferenza stampa Organizzata da Amnistia Giustizia e Libertà Alla quale hanno partecipato Anche il leader Dei radicali italiani Marco Pannella E l'onorevole Rita Bernardini E quest'ultima È una delle candidate Infavorite A ricoprire il ruolo Pannella Dal canto suo Conosce la politica Che aspetta Che la cosa Si concretizzi Sentiamo Presidente di Pangrazio A Teramo Per spiegare ai radicali Che l'hanno invitato Che hanno stimolato Il Consiglio regionale Che forse siamo Alla possibilità Di accelerare Questa Riemissione del bando Per il garante dei detenuti È una legge Approvata nel 2011 Noi subito 10-12 mesi Dall'insediamento C'è stato un dibattito Se unire la figura Del garante Con quella Del difensore civico Adesso domani Dopo aver deliberato In ufficio di presidenza Porterò l'attenzione E la convenza Dei capi gruppo Per riaprire il bando Circa 20 giorni E poi via subito A costituire l'ufficio E quindi ad eleggere Il nuovo garante Per le persone Che sono detenute Negli studi di pena Della nostra regione Quella dei radicali È una lotta Non violenta Che loro fanno Per tutelare I diritti umani Che io condivido Ma soprattutto In questa occasione Non è che sono da stimolo Ci hanno ricordato Solamente Hanno fatto bene Che c'è una legge Approvata nel 2011 Che la scorsa consigliatura Probabilmente Ha dimenticato Ma per colpa di nessuno E per colpa di tutti E che oggi Riprendiamo Questa staffetta Sperando di portarla All'approvazione Nel più breve tempo Possibile Ma non è che è rimasto Un po' deluso Da non capire Come mai Questo immobilismo politico C'è qualche problema A livello politico Ma no Ripeto Noi siamo stati eletti Siamo insediati Nel mese di giugno-luglio Subito è arrivata l'estate E poi È scaduito Questo dibattito Nei mesi Dell'autunno Dello scorso anno 2014 Sul fatto Si unire o no Le due figure E fare Un unico soggetto Garante Per i detenuti E come difensore civico Oggi A cinque mesi 2015 Portiamo Il nuovo bando Proprio per dare Opportunità A chiunque Abbia i requisiti Di poter partecipare Ad essere letto Come figura garante Un'altra battaglia Civile Che è portata a termine In questo caso Un passo avanti Grande per i detenuti A Abruzzo Sì Speriamo Che sia ancora Un passo avanti Perché vi sono Di difficoltà E credo che adesso Le illustreremo Sperando in questo modo Di superarle Nella conferenza stampa Che stiamo per fare Voi proponete un nome Ovviamente Per questo garante Nel caso in cui Passasse Non ci risulta Che il problema Sia del nome Il problema Invece Per noi È che non si capisce Perché Il consiglio regionale Non sta compiendo Degli atti Non Doverosi Ma Obbligati In termini Di pure E semplice Legalità L'Abruzzo Non vuole Le trivelle 60 pullman Provenienti Da tutta Italia 482 adesioni 60 mila Partecipanti La manifestazione Che si è svolta A Lanciano Sabato pomeriggio È stata un successo Oltre le aspettative Degli organizzatori E ha fatto capire Chiaramente La posizione Degli abruzzesi Che hanno urlato A gran voce No Ombrina Salviamo L'Adriatico Vediamo il servizio Quando il corteo Arriva a piazza Del plebiscito Intorno alle 17.30 Intonando ancora Una volta Quegli slogan Che hanno animato Tutta la marcia Sventolando Le bandiere blu Urlando L'Abruzzo Non vuole le trivelle Sotto una pioggia Abbattente Che però Non scoraggia La testa del corteo È ancora ferma Al punto di partenza La zona industriale Di Marcianese Quasi tre chilometri Di persone Di ogni età E orientamento politico Si sono riversate Nelle strade Di Lanciano Per dire no Al petrolio No Alla piattaforma Di Ombrina Mare Divendiamo Il nostro futuro Divendiamo Il nostro futuro Divendiamo Il nostro futuro Non è un figlio Non è un amore L'amore E manifestanti Non sono solo abruzzesi Tra le 60.000 persone presenti Molti Soprattutto giovani Sono arrivati Da altre regioni D'Italia Per aiutare L'Abruzzo In questa battaglia E manifestare Contro lo sblocca Italia di Renzi Che ha dato Il via libera Al progetto Milano Siamo venuti qua Perché abbiamo lavorato E stiamo continuando A lavorare Contro l'Expo E pensiamo Che la teoria Che porta A devastare Territori In nome di un grande evento Non sia poi Differente Da quella che Genera mostri Come l'Ombrina O l'idea delle Trivellazioni O in generale Pensiamo che l'Expo E quel dispositivo E quella scusa Sia stata un facilitatore Per tutto quello Che poi è diventato Il decreto Sblocca Italia La manifestazione È compatta E decisa Ed è pacifica E dimostra L'irremovibile posizione Di un popolo Che ha detto no Alla petrolizzazione Del suo mare E sì Alle straordinarie Potenzialità verdi Del territorio abruzzese Il messaggio Degli abruzzesi A Lanciano È stato fin troppo chiaro Non Brina Non alla petrolizzazione Del mare Adriatico La politica Ora avrà Altrettanta Determinazione Lo abbiamo chiesto All'assessore regionale All'ambiente Mario Mazzocca Davvero tanta Tantissima gente Nella manifestazione Di sabato Ha dato un chiaro Messaggio Alla politica Una politica Che si è sempre Nascosta Dietro dichiarazioni E poi Ai fatti Ha fatto tutt'altro Si può bloccare Definitivamente Questo discorso In prima mano Piuttosto che Petrolizzazione Nei mari Abruzzesi La politica Regionale Veramente Negli ultimi mesi Ha concretizzato Di fatti Attraverso Degli specifici atti Non da ultimo In due ricorse L'articolo 38 La corte costituzionale Le opposizioni Fatte Ai procedimenti Amministrativi Su Ombria E su Elsa Il recente pronunciamento Della regione Abruzzo Negativo Sulla VAS Delle tre velle Croate In poco Più di dieci mesi Noi un po' di Carne A cuocere L'abbiamo messa Ma lo sblocco Cantieri Si è sbloccato Si lo sblocca Italia Che fra l'altro Prevede anche Investimenti Per l'Abruzzo Ecco perché noi Abbiamo ricorso Verso l'articolo 38 E 37 Che erano I due articoli Che non vedevano Coincidere Nella nostra idea Do sviluppo Con quella che Ha l'attuale Governo Italiano Una regione Un intero Abruzzo Ha marciato A Lanciano Un'intera classica Politica Abruzzese Potrà marciare A Roma Io credo Di sì Per quanto mi riguarda Io sono pronto L'Europa è pronto Insomma Credo che anche La giunta regionale Non si zirerà Indietro La giunta regionale Almeno la giunta Alfonso Negli atti Che ha Prodotto È stata sempre Chiara E netta Certo che comunque Si interviene In una situazione In piena zona Cesarini Come direbbero I calciofili Si terrà Giovedì prossimo Nella sala polifunzionale Della provincia Di Teramo La manifestazione Conclusiva Del progetto Promosso Dall'ACI Teramo Con il sostegno Dell'ufficio scolastico Provinciale Denominato La sicurezza Si fa strada Allo suo ottavo Anno di realizzazione Il progetto Ha coinvolto 25 classi Per oltre 600 alunni Delle scuole Secondarie Di primo grado Di Teramo E della provincia Nel corso Della manifestazione Verrà consegnato Un premio Ai vincitori Del concorso La patente Appunti Un casco Omologato Per moto Di ultima generazione Ricordiamo Che i numerosi Che i numeri Sugli incidenti Stradali In generale Sono confortanti In provincia Di Teramo Essendo stati Nella 2013 Ultima rilevazione 879 Con un calo Del 2,5% Sul 2012 Con 1.282 Feriti 1,2% In meno E con una sensibile Diminuzione Del numero Delle vittime 18 Ovvero Il 33,3% In meno Rispetto Ai 12 mesi Precedenti Il presidente Della Fidas Teramo Pasquale Di Patre Lancia L'allarme Sono in forte calo Le donazioni di sangue Nel nostro territorio E' necessario Un incontro pubblico Per sensibilizzare I giovani E analizzare Il problema Sentiamolo Scendono sensibilmente Le donazioni di sangue In provincia Di Teramo E' per questo Che urge un tavolo Congiunto Per comprenderne Le motivazioni Ma anche pensare A soluzioni Che possano Incentivare Le donazioni Sottolinea Il presidente Della Fidas Teramo Pasquale Di Patre Ad esempio Parcheggi gratuiti All'ospedale Per i donatori Ma il problema E' complesso Noi non abbiamo Chiesto Un incontro pubblico Soltanto Alle associazioni Dei donatori Di sangue Che operano In provincia Di Teramo Ma abbiamo Chiesto Un incontro Anche con le istituzioni C'è Una tendenza Non tanto In termini percentuali Ma una tendenza Alla diminuzione Della flusso Di raccolta Di donatori Di sangue La tendenza Diciamo Che Il fenomeno Si Evidenzia Un po' In tutta la nazione A Teramo Sta diventando Estremamente Preoccupante Sono circa tre anni Che le donazioni Appunto Diminuiscono E vorremmo capire Il fenomeno L'abbiamo studiato Ne abbiamo discusso Anche In occasione Di assemblee In occasione Di incontri pubblici Ultimamente Abbiamo discusso Questa cosa Presso il comitato Di partecipazione Un organo Previsto Dalla legge Che vede Intorno a un tavolo Le associazioni De donatori Di sangue E le istituzioni Soprattutto Quelle sanitarie Abbiamo evidenziato Il problema E abbiamo pensato Che non è più Rinviabile Un momento Di riflessione Congiunto Riunione straordinaria Della giunta Regionale Presso la sede Della ASL Di Lanciano Basto Chieti Sentiamo Cosa è emerso La giunta Regionale Si riunisce Presso gli uffici Della ASL Di Chieti E' una delle più Importanti Novità Introdotte Nel modus Operanti Dalla giunta D'Alfonso Oggi Due provvedimenti All'ordine del giorno Il primo Innanzitutto Il potenziamento Della capacità Di offerta sanitaria Del presidio Ospedaliero Di Chieti Si dà il via Nell'unico modo Che conoscono Le amministrazioni Attivando procedure Questa è l'attivazione Della procedura Individuando Le risorse finanziarie Individuando Il cosa si fa E stabilendo Il livello di priorità Molte volte Le decisioni Non sono state assunte Non perché Mancassero i problemi Mancava la consapevolezza Per stabilire Cosa si fa prima E cosa si fa dopo Noi abbiamo fatto Una scelta di campo La prima decisione Riguardante L'edilizia sanitaria A 11 mesi Dal nostro insediamento L'abbiamo assunta Per Chieti Per quale ragione Perché qui c'è Una pagina Di cemento Impoverito Che a me Ha fatto impensierire Per la quale Ringrazio Il vertice Il vertice della As di Chieti Che ha voluto Trattenere in esercizio Anche una parte Problematica Della sua struttura Oggi Dopo mesi di approfondimento E di ricerca Dei fondi Abbiamo attivato Un procedimento Che si concluderà Con l'individuazione Del contraente Cioè Del chi deve fare i lavori E i lavori Li farà Non chi frequenta Di più a cena Il politico Importante di turno Ma chi fa L'offerta migliore Nel rispetto Della legge La prima decisione Assume come bersaglio Positivo Chieti Con la sua Cittadella sanitaria La seconda Riguarderà L'Aquila La terza Riguarderà Teramo E la quarta Pescara L'Aquila C'è un problema Del delta chirurgico A Teramo C'è un problema Rilevante Concernente Il pronto soccorso E il parcheggio Che è una capra Che non si fa prendere Perché non riusciamo A risanarla Ad assumerla E a Pescara C'è più di un problema Che dobbiamo razionalizzare Altro importante Provvedimento Da non sottovalutare Perché la prima volta Che viene fatta Questa richiesta Spiega il presidente D'Alfonso E la proposta D'ingresso Della regione Abruzzo Nei corridoi Della rete Di trasporto europeo TEN-T Sì Per la prima volta In 23 anni L'Abruzzo Chiede l'ingresso Nelle reti TEN-T Dei corridoi Transeuropei Siamo convinti Di farcela Poiché a giugno Ci fanno L'esame di Stato E adesso La rubrica Carta canta Di Giancarlo Falcone Tutti noi ce la prendiamo Con la storia Ma io dico Che la colpa È nostra È evidente Che la gente Poco sedia Quando parla Di sinistra Destra Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Eh eh Destra sinistra Destra sinistra Destra sinistra Destra sinistra Destra sinistra Basta Benvenuti a Carta canta Benvenuti agli ex azionisti Della banca Tercas Vi ricordate? Quelli che hanno perso Milioni e milioni di euro Non quelli della banca Popolare di Bari Che si divideranno Anche un aumento Di azioni Di scentesimi A noi non ci interessano Facciamo gli auguri Ovviamente Gli in bocca al lupo Anzi Invece ci occupiamo Degli azionisti Della Tercas Ci occupiamo Della CONSOB La commissione nazionale Per la società La borsa Che nel periodo di gennaio 2014 Aveva mandato Quelle che erano Diciamo Le presunte irregolarità Della gestione Tercas Periodo che va Dal 2009 A maggio 2012 Violazioni riguardanti La profilatura Della clientela Le irregolarità Le presunte irregolarità Riguardante La registrazione Nella tenuta Delle registrazioni Quindi della trasparenza Nella disciplina Del conflitto di interessi Ci sono dei documenti Importantissimi Che serviranno A tutti gli azionisti Che noi adesso qui A Cattacanta Andiamo a leggere Allora Violazioni delle norme Che regolano La valutazione Di adeguatezza Degli investimenti Le verifiche condotte Hanno evidenziato Che le operazioni Di vendita In questione Sono state precedute Da un'anomala Attività Di riprofilatura Dei clienti Strumentale A rendere adeguato L'investimento Di ciascuno Dei summenzionati Titoli azionari Andiamo avanti In tale contesto L'operativo Il descritto comportamento Degli addetti Alla relazione Con la clientela Che è coinvolto In quel periodo 31 filiali Della banca Dislocati in aree Territoriali diverse Ha peraltro palesato L'assenza Di presidi procedurali Idonei a evitare Comportamenti Non conformi Delle strutture Di front office Ciò ha causato Il verificarsi Di diffuse E reiterate Condotte Scorrette Diffuse E reiterate Condotte Scorrette Degli addetti Neppure intercettate Dagli organi di controllo Che sebbene Deputati La verifica Delle idoneità Dei criteri Delle misure Predisposte Dell'intermediario Per assicurare Il rispetto Delle disposizioni Di legge Non hanno effettuato Le necessarie Verifiche Ex post È gravissimo L'anomalia riscontrata Si colloca Entro un quadro Procedurale Che è risultato Caratterizzato Da aree Di manualità Margini Di discrezionalità E carenze Nei controlli La Consob È molto severa In questa sua Disanima È continua Dalla detta Metodologia interna Non è stato Peraltro Opportunamente Bilanciata Da presidi Di controllo Evidenziata Diverse volte Cioè L'attività Scorretta È mancanza Di presidi Di controllo Risulta infatti Che non sono stati Svolti Controlli periodici Sulla corretta Classificazione Degli strumenti Finanziari Ne sono stati Mai programmati Controlli Di primo Secondo Terzo Livello Si soggiunge A riguardo Che la storicizzazione Delle classi Di rischio Assegnate Agli strumenti Finanziari Offerti Da banca Vignante L'implementazione Di un dedicato Archivio informatico È avvenuta Solo a partire Dal marzo 2012 Il periodo Dell'ipotesi Di violazione In discorso È riferita Al primo Luglio 2009 Al 4 maggio Attenzione Bene 2012 Continua La Consob Con le irregolarità Nella tenuta Della registrazione Dice che non ci sono state Le registrazioni Di controllo Continua ancora Nelle irregolarità Relative La disciplina Dei conflitti Interesse E la condotta Della banca Nella distribuzione Delle azioni Proprie È risultata Censurabile Sotto L'ulteriore profilo Della gestione Dei conflitti Interesse Che cosa succede Adesso Succede Che dopo Questa nota Ci sarà Anche Un invio Della Consob Delle presunte Violazioni Quindi Delle presunte Sanzioni Si aspetterà La controdeduzione Dei soggetti Interessati Poi arriveranno Le sanzioni vere Noi saremo Qui con voi Insieme a tutti Gli azionisti Gli ex azionisti E la banca Tercas Carta canta Previsioni in Abruzzo Al mattino Sereno Sulle zone Collinare E montane Sereno Sulle zone Litorane Nel pomeriggio Variabile Con deboli Rovesci di pioggia Sui massicci Appenninici Sereno Sulle aree orientali Tra sera e notte Coperto Con pioggia moderata Sulle aree interne E sui rilievi Variabile Sulle aree marittime Temperature Stazionarie Massime Comprese Tra 19 e 22 Grad Nelle conche Aquilane Marsicane Tra 24 e 27 Grad Sulle pianure Adriatiche Venti deboli O moderati Orientali Mare quasi calmo In provincia Di Teramo Al mattino Sereno Su gran parte Del territorio Provinciale Nel pomeriggio Coperto Con pioggia Moderata Sui massicci Appenninici Sereno Sui settori Orientali Tra sera e notte Coperto Con pioggia Moderata Sui settori Interne E sui rilievi Parzialmente Nuvoloso Sui settori Marittimi Temperature In aumento Massime Comprese Tra 21 e 24 Gradi nelle pianure Dell'entroterra Tra 23 e 26 Gradi sulle coste Venti deboli Orientali Mare quasi calmo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Siamo allo sport, iniziamo con il calcio. Ieri sera si è giocato l'ultimo atto della Supercoppa di Lega Pro. Tra Teramo e Novara è finita 1-1, un risultato che ha permesso ai piemontesi di vincere il trofeo. I biancorossi finiscono all'ultimo posto e chiudono una stagione memorabile caratterizzata dalla storica promozione in Serie B. Il servizio sulla gara. ...dalla suo pubblico con un pareggio. Contro il Novara termina 1-1, un punteggio che permette alla formazione piemontese di salire a 4 punti in classifica e di conquistare la Supercoppa di Lega Pro. Il Teramo invece chiude la manifestazione all'ultimo posto. Si conclude, così, una stagione da ricordare che ha visto la storica promozione in Serie B del Diavolo, un risultato che resterà per sempre negli annali del calcio biancorosso. Tra Teramo e Novara è stata una partita tutto sommato godibile, nonostante le due squadre si siano presentate sul sintetico del Bonolis di Piano Daccio con degli undici imbottiti di seconde linee. Mister Vivarini, in particolare, estrae dal Cilindrum in edito 3-4-1-2, con la padula che agisce nel ruolo di fantasista alle spalle del tandem Donnarumma-Bucchi. Con il nuovo modulo i biancorossi faticano un po' a ritrovarsi e soprattutto nei primi 20 minuti il Novara ha vita facile e riesce a creare più di un pericolo dalle parti di Tonti. Uno dei più attivi tra gli azzuri e Garofalo che dalla sinistra sforna spesso e volentieri dei cross tagliati molto invitanti per i compagni dell'attacco. Al terzo l'esterno in becca Dickman, la cui girata è troppo centrale. Al tredicesimo poi ci prova Corazza, la sua battuta è forte ma imprecisa, la pallava sul fondo. Al ventunesimo è ancora Garofalo in evidenza, l'ex Torino peschinaria della Rocca, il suo colpo di testa viene fermato senza problemi da Tonti. Scampati i pericoli iniziali, il Teramo sale di tono e pian piano prende in mani il pallino del gioco. Il primo a chiamare all'opera Montipò è Donnarumma, al ventitresimo, con un tiro dal limite che l'estremo azzurro respinge in tuffo. Al trentasettesimo poi c'è il gol di casa, una marcatura che arriva al termine di una splendida azione in linea che coinvolge tutto il trio d'attacco. Donnarumma in esca Bucchi che di tacco allunga per la padula. Il bomber di prima intenzione fredda Montipò con un violento tiro sul primo palo, 1-0. Prima dell'intervallo il Teramo sulle ali dell'entusiasmo continua a spingere. Al quarantesimo Donnarumma dal limite conclude di pochissimo sopra la traversa. Al quarantatresimo invece c'è la risposta del Novara. Sulla punizione di Buzzegoli dalla sinistra nessun giocatore riesce a trovare la deviazione vincente. Si va così negli spogliatoi con il diavolo avanti di stretta misura. La ripresa però inizia subito male per il Teramo e il decimo quando i biancorossi restano in dieci per l'espulsione di Perrotta per questo fallo da ultimo uomo su Corazza. Ma l'azione è viziata da un netto fallo, commesso in partenza proprio ai danni del difensore biancorosso. Con il Teramo in dieci il Novara alza il baricentro. Mister Toscano inserisce anche Vacuo nel tentativo di raddrizzare il punteggio. Il no entrato si fa vedere al diciannovesimo ma Tonti con il corpo gli sbarra lo specchio di porta. Il diavolo soffre ma di tanto in tanto prova a pungere in contropiede. Al ventiquattresimo Donnarumma apre per la padula che spara sul fondo. Mentre al ventinovesimo è lo stesso Donnarumma a sprecare tutto, sbagliando per ben due volte il tiro in maniera sciagurata. Il primo è respinto da un difensore, il secondo finisce al lato. Il finale poi è tutto di marca Novarese. Evacuo per due volte fa correre i brividi ai 1500 del Bonolis. Al trentaquattresimo con un fendente dal limite fuori di poco. E al quarantesimo con un colpo di testa che finisce incredibilmente al lato. Il gol del pari comunque è maturo e arriva puntuale al quarantatresimo. A firmarlo è buzegoli con questa sventola dalle distanze sulla quale Tonti nulla può. Nel recupero infine si registra l'ultimo pericolo. Un tiro di Masullo sul quale Montipò si salva alla meno peggio toccando in corner. Finisce così 1-1. Il Novara si prende la Supercoppa. Il Teramo dà la rivederci ai suoi tifosi. L'appuntamento è al prossimo campionato di Serie B. Ci siamo incontrati oggi. Vivarini resta al 99,99% dice Campitelli. Dall'altra parte Vivarini. Non c'è nessuna novità. Devo ancora incontrarmi con il Presidente. Assume i toni del giallo la permanenza del tecnico Vivarini sulla panchina del Teramo. Lo confermano le curiose e contraddittorie dichiarazioni che sono state rilasciate da Campitelli e dallo stesso Vivarini subito dopo la fine del match col Novara. Intanto è stata ufficializzata la sede del ritiro. Sarà rivisondo. Risentiamo. Ma diciamo che oggi si è quasi chiuso. Quindi diciamo che al 99,99% Vivarini e Di Giuseppe resteranno con noi. C'erano delle piccole situazioni ancora da chiarire. L'abbiamo fatto questa mattina in sede. Da lunedì, anzi da martedì, si parte con il nuovo organigramma, il nuovo programma. Sono un tipo di società che... Siamo rimasti alle ultime interviste che ho fatto. Spero di rimanere perché ci tengo perché... Io sono rimasto all'ultima intervista che ho fatto. Io non mi sono incontrato con nessuno. Sono stato venuto con la squadra. Quindi non lo so a chi si ricarica. Ma non abbiamo pronti a parlare. Non manca niente. Penso, spero che non manchi niente. Perché voglio dire, da parte mia la volontà c'è. Da come sento, anche da parte del Presidente. Però non ci siamo mai parlati. Quindi che le devo dire? Fa piacere di questa stima del Presidente. Però vedrete che arriverà. Insomma ci si incontra un attimino e si ritrae da passi. Nuovi importanti riconoscimenti sportivi stanno per essere consegnati al Teramo Calcio. L'allenatore Biancorosso Vivarini è stato invitato a ritirare il premio come migliore allenatore dell'anno nella categoria Lega Pro stagione 2014-2015 nel corso degli Italian Sport Awards. Nel corso della stessa Kermess saranno anche premiati Alfredo Donnarumma come miglior bomber della Lega Pro, Gianluca Lapadula come miglior giocatore della Lega Pro e il Teramo Calcio come migliore società. L'evento, giunto alla sua quinta edizione, patrocinato dal CONI e dalla FIGC, si terrà il 3 giugno ad Albanella, in provincia di Salerno. Si ferma in finale il sogno play-off del San Nicolò. I Biancazzurri sono stati sconfitti per 5 a 1 dal Fano, che accede così alla fase nazionale e continua a sperare nel ripescaggio. Gli uomini di Epifani hanno chiuso a testa alta una stagione che li ha visti sempre protagonisti il servizio. Giornata grigia, col minaccia di pioggia, che ha tenuto lontano forse il grande pubblico. Osservato un minuto di raccoglimento in memoria degli atleti caduti nella grande guerra. Minuti di studio, poi al quarto, il primo fondo che frutta solo un calcio d'angolo, il primo di giornata, che non regala nulla al team Granata. La replica del San Nicolò non si fa attendere, ma non colpisce come vorrebbe. Squadre che si attaccano senza particolari alchimie tattiche. Al tredicesimo, da destra, calcia dalla bandierina Cacchiarelli. La difesa Granata non si scompone, oltre il dovuto. Squadre che si concedono molto poco, con scami tattici molto rigidi. Subisce fallo in area San Nicolò. Un giocatore Granata dal dischetto Sivilla non sbaglia, è l'1-0 per il Fano. Torna il sole sul Mancini. Sivilla, da sinistra a ventiduesimo, mette sui piedi di Lunardini un pallone d'oro, che il giocatore Granata spara le stelle. Occasione bruciata. San Nicolò non molla e prova ad attaccare, ma il Fano lo tiene costantemente in allarme. Ventisettesimo, Sivilla crea scappando sulla corsia di sinistra una ghiotta opportunità, che nessun giocatore Granata sa capitalizzare. Fano che attacca, San Nicolò che cerca di evitare i danni. Al trentatresimo, San Nicolò ancora protagonista ad un passo dal pari, con Cacchiarelli. Ginestra sbroia la matassa. Un minuto dopo si infortuna Gabrielli, costretto ad uscire. Si becca il giallo, trentasettesimo, Ginestra, per aver ritardato la ripresa del gioco. Fano, al trentottesimo, si divore il 2-0 con Gucci. Borrelli, quarantasettesimo, illude tutti con una conclusione che si smorza sull'esterno della rete. Il secondo tempo si avvia con gli ospiti che innestano Moretti al posto di Donatangelo. Sfiore il pari, la squadra ospite al terzo, con un diagonale velenosissimo di Bartolini. Fano torna ad attaccare, San Nicolò che cerca di coprirsi le spalle. Gran botta di Borrelli dai 25 metri al settimo, pallone che sorgolla la traversa. Raddoppio Fano, 12esimo, con Gucci. Bravo a sfruttare un'indecisione della squadra ospite nella zona nevralgica del campo. Il raddoppio Granata spinge la squadra bianco-celeste ad armarsi di coraggio. Fano da parte sua sostituisce Ulivi con Marconi, con Borriello che viene spostato sul versante sinistro. Partita sempre aperta e piacevole, 24esimo. Bella manovra del Fano sulla corsia di destra con Marconi che mette alle spalle di Lupinetti. Partita in pratica finita. Fano padrone assoluto del campo, ci prova San Nicolò al 29esimo con Santoni, para a terra sinestra. Calcio di punizione dal limite per San Nicolò al 31esimo, calcia Cacchiarelli senza successo. Al 34esimo Sartori firma il poker Granata. Un minuto dopo ospiti che possono calciare un calcio di rigore che Cacchiarelli trasforma con sufficiente autorità. Rischia l'autogolle il San Nicolò al 41esimo, il portiere Lupinetti lo evita, merita l'applauso. Chiude la goleada il Fano con Sartori al 47esimo. E in chiusura vi ricordiamo che questa sera torneranno i classici approfondimenti del lunedì sera dedicati a San Nicolò e Teramo Calcio. Alle 20.30 ci sarà Bianca Azzurri, la trasmissione condotta da Francesco Graduato, ospite l'addetto stampa del San Nicolò Matteo Falzon. E alle 21.00 torna Biancorossi, ospite di Andrea De Aloisio. Questa sera sarà il presidente Biancorosso, Luciano Campitelli. E con questo è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata. Grazie. 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 Grazie.